Diego Bravar, Presidente di TBS Group, una delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia presenti oggi all'Alpe Adria Bio-Hitech Brokerage. Qual è l'importanza di questo tipo di iniziativa? L'importanza deriva dal fatto che Trieste, in particolare questa regione, è la prima in questo settore, non a caso TBS è nata a Trieste e perché solo nella regione di Venezia Giulia operano nel settore 5.000 dipendenti con 700 milioni di fatturato. È evidente però che noi facciamo massa se riusciamo a far interagire le aziende di questo settore e gli enti di ricerca con tutto il mondo sostanzialmente circostanze nell'Alpe Adria. È fondamentale che questo tipo di evento venga ripetuto annualmente e che Trieste diventi la capitale dell'Alpe Adria in questo settore. Ne abbiamo le possibilità, date gli enormi investimenti fatti a Trieste nella ricerca negli ultimi anni che io considero quasi 300 milioni all'anno e quindi noi abbiamo una grande potenzialità di trasferire le conoscenze dagli enti di ricerca in innovazione di prodotti e servizi soprattutto nel settore della salute. Grazie. 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 Grazie.